Buongiorno a tutti da New York, a voi gli inviati speciali, striscio la notizia, Falcone e Agnese, Isabella e Agnese. Passo la parola a Isabella. Ci vediamo, ci sentiamo dopo, per il momento siamo contentissime, specialmente io, avere questa bellissima signora a fianco a me. Complimenti e grazie al suo bel marito, pura pompaio. Ah, per questo volevo dire. Sempre complimenti ad Agnese e a loro, Tavio, niente. Allora, aspettiamo Antonio, vorrei vedere anche te qua. E Gabriella, quando è possibile, facciamo una bella risata. A dopo, ciao ciao.